spazio e distorsione tre arresti fra fanno e senigallia aveva 600 video pedopornografici denunciato mondolfese a pesero due decessi in casa nel giro di due ore edilizia ospedaliera i prossimi investimenti della regione il 7 gennaio a pesero il primo young art festival buona serata a tutti voi amiche e amici di rossini tv ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale rossini news notiziario di giovedì 5 gennaio che apriamo con alcune notizie di cronaca cominciando da una operazione congiunta dei carabinieri di senigallia e fanno che hanno portato ieri ad arrestare con reclusione nel carcere anconetano di montacuto tre uomini residenti fra le pesarese e l'anconetano responsabili dei reati di spaccio di stupefacente estorsione e sequestro di persona è stata infatti ricostruita una intensa attività di spaccio di hashish marijuana e cocaina poste in essere dagli indagati i quali applicavano alti tassi di interesse e per ottenere i pagamenti in denaro delle cessioni degli stupefacenti commettevano spesso atti di tipo estorsivo anche con aggressioni fisiche violente giungendo pure a limitare la libertà personale di alcuni acquirenti. Un giovane assuntore di droga ha però sporto denunce ai carabinieri avviando le indagini poi durate per mesi. Ed è invece di 5 arresti e 17 denunce il bilancio dell'attività investigativa della polizia postale delle Marche per quello che riguarda il 2022 relativo al contrasto della pedopornografia. In questo contesto fra gli arrestati c'è anche un cittadino di Mondolfo che è stato trovato con 584 video di natura pedopornografica sui propri pc e smartphone. Si tratta di video ritraenti bambini d'età compresa fra 6 e 10 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. Sono così scattate le manette per l'uomo che non ha fornito agli inquirenti spiegazioni sulla detenzione di quelle immagini e sono in corso gli accertamenti per risalire ai soggetti che hanno inviato gli stessi filmati. Due decessi in casa per malori nel giro di appena un paio d'ore a Pesaro fra zona 5 Torri e zona Muraglia. Tiziana Duglio Tallevi, ex insegnante cinquantene, è stata trovata senza vita in un condominio di via Lubiana dopo che i vicini di casa non vedendola da tempo hanno deciso di allertare i carabinieri intervenuti assieme a 118 vigili del fuoco per entrare nell'abitazione dove la donna è stata trovata senza vita. Allo stesso modo ieri mattina in via Petrarca è stato trovato il corpo esanime del pensionato 62enne Massimo Gori ad allertare i soccorsi anche in questo caso è stata una vicina di casa. Chiudiamo la pagina della cronaca e apriamo quella della sanità per occuparci nello specifico di edilizia ospedaliera per quelli che sono i prossimi investimenti della regione Marche nel triennio 2023-2025 alla luce dell'ultima approvazione di bilancio. Il 2022 della giunta a Quaroli si è chiuso con l'approvazione del bilancio che stanzia la cifra di 252 milioni di euro tra sestamento 2022 e triennio 2023-2025 da destinare alle infrastrutture. Cifra corposa di cui buona parte è destinata alle infrastrutture stradali ma in cui la fetta più sostanziosa di 119 milioni e mezzo viene ritagliata per l'edilizia ospedaliera. Maxi finanziamenti sanitari così motivati dall'assessore Francesco Baldelli. Perché permettetemi il termine abbiamo trovato degli ospedali vecchi, vecchi nelle concezioni architettoniche, vecchi strutturalmente, non in grado di garantire la sicurezza dei pazienti che stanno all'interno pensati in un'emergenza sismica e purtroppo a Pesaro come nel resto della nostra regione in questi anni abbiamo vissuto un'onda sismica preoccupante. Dobbiamo attrezzare le nostre strutture non solo perché reggano al terremoto, ai terremoti o altre tipologie di emergenze, ma perché riescano ad operare anche durante l'emergenza. Questo è il primo obiettivo che ci siamo posti. Considerando anche che la concezione, i layout degli ospedali sono fondamentali per far esprimere alle professioni mediche e a tutti gli altri operatori sanitari al meglio le loro capacità. Quindi un grande investimento non solo per creare un contenuto, ma per rendere anche di fronte alla carenza dei nostri medici più efficiente e più efficace la sanità che riusciamo ad offrire in questo contesto storico molto difficile, dove non abbiamo trovato medici, medici di medicina generale, quindi i nostri medici di famiglia, il numero sufficiente per dare risposte ai nostri concittadini, ma non abbiamo trovato nemmeno medici ospedalieri che sono fuggiti dalla nostra regione per andare in altre regioni che anch'esse sono in sofferenza. Perché non abbiamo preparato medici in grado di poter dare dei contenuti ai nostri contenitori, ai nostri ospedali. E allora in questo il Presidente Acquaroli è stato molto, ma molto determinato. Abbiamo investito, sostituendoci anche allo Stato, per dare un segnale e tracciare una rotta ben precisa, oltre 6 milioni di euro annui per la formazione del personale medico, sia medici di medicina generale, competenza più vicina a quelle regionali, sia i nostri medici specialisti per le strutture ospedaliere. Ne formiamo circa 150 all'anno per colmare quella carenza che abbiamo trovato dovuta a una mancata programmazione del passato. Quella di Pesaro Urbino risulta la provincia con gli investimenti più massicci, sia in aspetti migliorativi, sia in edificazioni ex novo. Su tutte il nuovo ospedale di Pesaro a Muraglia, ma pure i nuovi ospedali di comunità, come quello che sorgerà a Monbaroccio. Dall'ospedale di Pesaro siamo partiti perché era un'esigenza che si sentiva da oltre 50 anni. Se ne era parlato tanto, ma nessuno aveva mai concretizzato nulla. In due anni non solo abbiamo reperito tutte le risorse necessarie, si tratta di circa, al netto dell'aumento prezzi, 150-170 milioni, con l'aumento dei prezzi, con i nuovi preziari circa 200 milioni e partiremo ben presto, non solo con la progettazione, ma prima della fine della legislatura auspichiamo di partire al netto di condizioni che oggi non possiamo prevedere con la realizzazione fisica della struttura ospedaliera. A quale si aggiungono una serie di investimenti per tutto il territorio? Lei ha parlato di Monbaroccio, potrei parlare anche di Cagli o di Urbino o della terza città delle Marche Fano con una nuova palazzina delle emergenze, così come faremo ad Urbino, o anche la edificazione del cosiddetto nuovo ospedaletto, un ospedale pediatrico che manca nella nostra regione e ovviamente manca anche nella nostra provincia, o la ristrutturazione dell'ospedale di Pergola. Poi ci vorremmo concentrare anche, come stiamo facendo nei servizi dell'ospedale di Sassocorvaro, e dare una risposta, perché credo che sia giusta il collega competente in materia, ha già incontrato le amministrazioni della Valle del Metauro anche nella riattivazione di alcuni servizi presso l'ospedale di Fossombroni. Tutto questo riguarda degli investimenti che possono essere computati all'incirca in 300 milioni di euro solo nella nostra provincia. E continuiamo ad approfondire anche i progetti infrastrutturali dei comuni della provincia di Pesor Urbino in questo inizio 2023. Oggi parliamo di Cartocetto con la prossima intervista al sindaco Enrico Rossi. Questi sono giorni sicuramente in cui in amministrazione si è soliti raccogliere le idee, cominciare a fare cronoprogrammi, scalette per l'anno che è appena iniziato e sicuramente è anche un po' il modo per fissare le scadenze dei progetti più importanti, come dicevi. Tra questi, per ciò che riguarda il Comune di Cartocetto, c'è sicuramente il completamento e la realizzazione al tempo stesso del progetto che riguarda il Teatro del Trionfo, per il quale proprio di recente è pervenuto il decreto del Ministero della Cultura di assegnazione di 2 milioni di Euro di finanziamento. Questo da un lato ci consentirà di terminare definitivamente il progetto di recupero dell'interno del teatro e dall'altro invece ci consentirà di realizzare anche la riqualificazione dell'esterno dando vita al primo polo performativo multisensoriale italiano che ovviamente consentirà di avere un elemento d'attrattiva molto molto importante anche per tutto quello che è l'indotto economico che genererà. Sempre rimanendo nel capoluogo nei primissimi mesi di quest'anno partirà sia il progetto di sistemazione definitiva via 4 novembre, ma soprattutto sarà l'anno della definitiva sistemazione della cinta muraria con il completamento del primo degli interventi che è già partito lo scorso anno e soprattutto la realizzazione degli altri due interventi per circa un milione di Euro. E poi venendo alla frazione ci sono progetti non meno importanti perché è praticamente quasi concluso il progetto di realizzazione del nuovo centro di comunità che vedrà da un lato spazi davvero ampi e completamente nuovi oltre che polivalenti e dedicati soprattutto agli anziani ma non solo e dall'altro la nuova sede della Polizia Municipale per circa 800 mila Euro. Anche questo è un progetto che verrà finanziato non appena approvato il bilancio di previsione. Altro progetto molto importante che abbiamo in cantiere è la bretella stradale di collegamento tra via della Liberazione e via Pilone che da un lato risolverà annosi problemi di traffico e dall'altro invece sono sicuro sarà un volano economico importante per l'ulteriore trasformazione e sviluppo di nuovi comparti urbanistici. Non dimentichiamo la ciclovia del Metauro, chiamiamola così, prima che in questa prima tranche vedrà realizzato il tratto Fano-Cartocetto perché nei primi mesi dell'anno partiranno via via i decreti di esproprio per poi seguire tutto l'itero procedurale che porterà alla realizzazione di questa importante infrastruttura di mobilità sostenibile. Ed ora ci occupiamo della Fondazione Filippo Fattori che per il ventiquattresimo anno consecutivo è pronta a premiare gli studenti affetti da problematiche neurologiche che hanno completato con profitto l'ultimo anno scolastico. Per il ventiquattresimo anno consecutivo anche dopo il termine del 2022 la Fondazione Filippo Fattori conferirà premi e riconoscimenti a 55 studenti delle scuole medie inferiori e superiori della nostra provincia che pur portatori di affezioni neurologiche o di altro rilievo hanno frequentato con profitto le varie scuole nell'anno didattico 2021-2022. Sale così a 817 il numero degli alunni che in queste 24 edizioni sono state premiate dal riconoscimento. Considerata la persistenza della possibilità di contagi sia influenzali sia pandemici è stato scelto di non organizzare la cerimonia per la consegna dei premi con la presenza fisica degli alunni e dei familiari che impegnava la presenza di oltre 100 persone e pertanto la consegna verrà fatta dalle varie scuole ai rispettivi alunni come già avvenuto nei due anni precedenti. Si insedierà martedì 10 gennaio a Palazzo Ducale di Pesaro Emanuela Saveria Greco in qualità di nuovo prefetto di Pesaro Orbino. La sessantenne Greco è originaria di Cosenza e subentra Pesaro a Tommaso Ricciardi andato in pensione lo scorso mese di novembre. Per Emanuela Saveria Greco è il primo incarico in carriera da prefetto dopo l'ultima esperienza a Pisa in qualità di vice prefetto. Dopo un biegno di stop per pandemia torna sabato 7 gennaio a Palazzo Gradari giocattoli in movimento. Si tratta della campagna del Movimento 5 Stelle di Pesaro dove ad essere protagonisti sono i sorrisi dei bambini e la cultura di riciclo, riuso e tutela dell'ambiente. Dalle 16 alle 20 i bambini sono infatti invitati a portare due o più giocattoli o libri che potranno scambiare con uno a propria scelta. I giocattoli raccolti verranno poi donati a reparti pediatrici, case d'accoglienza per minori e strutture per l'infanzia. E invece domani 6 gennaio ci sarà l'ultima occasione per visitare a Mondolfo Presepe Paese ovvero il più grande presepe vivente dell'Adriatico che coinvolge tutto il borgo in un tuffo nella magica atmosfera dell'Epifania giunto quest'anno alla 28esima edizione. Presepe Paese sarà visitabile ad ingresso gratuito dalle 17.30 alle 19.00. Arte, poesia e musica con la bellezza di 14 concerti tutto in Piazza del Popolo in una serata dalle 17.00 a mezzanotte. Accadrà sabato 7 gennaio con la prima edizione di Pesaro Young Art Festival, un evento che andiamo a conoscere attraverso la presentazione dei propri organizzatori. Questo 2023 a livello di eventi apre la Piazza del Popolo con Young Art Festival una novità dalle 17.00 a mezzanotte, poesia, danza e musica tutto in un unico contenitore. La musica accompagnerà tutto l'evento a partire dalle poesie poi ovviamente la scuola di danza dell'MDS Lab e 15, anzi 14 concerti e un DJ set quindi sicuramente la musica è la prima cosa e sarà un evento fuori dal comune, secondo me. Grazie al comune di Pesaro e grazie a Sound Logic Records vi aspettiamo il 7 gennaio dalle 17.00 alle 24.00, quindi a mezzanotte. Lavoro insieme a Filippo Santori e a Sound Logic Records abbiamo questa azienda che lavora a 360 gradi nell'ambito musicale e quindi all'interno delle nostre strutture gravitano un sacco di artisti e abbiamo ritenuto opportuno trovare un'idea di fare un evento da presentare al comune per dar spazio ai giovani di potersi esprimere in un luogo storico come la piazza della propria città. È sempre per me un piacere tornare qui in Piazza del Popolo a Pesaro in questo caso per presentare questo evento dedicato ai giovani e chissà, magari scopriremo anche qualche nuovo talento da portare in giro anche per l'Italia perché l'idea è quella di valorizzare gli artisti del territorio come fa Sound Logic Records che appunto coordina questo evento a livello musicale e da Pesaro portarli in tutta Italia. Quindi insomma questo è uno scambio interessante. Quindi saremo io e Marco Corona, un collega speaker radiofonico, a presentare l'evento e ci vediamo, ci vediamo sabato 7 gennaio in Piazza del Popolo dalle 17. Sono eventi molto importanti che mi rendono molto soddisfatta e molto orgogliosa di questo percorso che è stato fatto durante questo anno perché moltissimi giovani, moltissimi ragazzi si sono interfacciati con me, mi hanno contattato, mi hanno cercato e mi hanno fatto delle proposte assolutamente interessanti, condivisibili. Per cui con grande entusiasmo ho accolto quelle che erano le loro proposte e questo non è il primo evento ma sicuramente l'evento conclusivo diciamo di queste feste natalizie e anche del percorso Città dei Giovani che è quasi arrivato agli sgoccioli, mancano ancora poco oramai e quindi un evento che dà spazio non solo alla musica ma anche all'arte, alla poesia, alla danza e quindi sicuramente un momento che può racchiudere un po' tutto quello che è il percorso artistico che è stato fatto finora. E concludiamo con lo sport perché sarà l'Ital Service Pesaro di Calcio 5 la prima squadra a tornare in campo per match ufficiale in questo 2023. Lo farà domani sera al Palafiera in un match cruciale nella lotta salvezza. Nella calza della Befana l'Ital Service cerca la ripartenza attraverso quei punti dal peso specifico maggiorato nella posta in palio messa dal match con il Petrarca Padova. Entrambe le squadre sono appagliate a quota 12 punti in 14 gare e collocate in una classifica pericolosa fra 13esimo e 14esimo posto ovvero fra zona play-out e zona retrocessione diretta. I pesaresi devono dunque rialzare la testa dopo un 2022 chiuso con il KO 4-1 a Eboli che ha contrassegnato la quarta sconfitta di fila. I veneti invece hanno concluso con un pari col Kamedosson. Pesaro e Padova hanno lo stesso obiettivo, risalire la classifica e svoltare. Si gioca al Palafiera con fischio d'inizio fissato venerdì 6 gennaio alle ore 20 e 30. All'Ital Service servirà una prestazione maiuscola considerando che il valore dei veneti è superiore a quello che dimostra la graduatoria di oggi. Servirà soprattutto l'affetto di tutto il popolo marchigiano riunito proprio al Palafiera dal 5 all'8 gennaio per le Finals Cup. Al contrario di una Ital Service di calcio a 5 che vuole cambiare passo nell'anno nuovo, l'Ital Service Loretto Basket non vuole invece spostarsi di una virgola dagli ultimi mesi del 2022. Sabato 7 gennaio alle 18 arriva Perugia, Baia Flaminia e la capolista pesarese vuole ripartire con la sua marcia immacolata da 12 vittorie su 12 partite disputate. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Come di consueto prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che in questo giovedì è dedicata ad una nuova puntata della TV dei viaggi che in questa serata ci porterà alla scoperta dell'Algeria a partire dalle 21.20. E poi anche nella mattina dell'Epifania, nella mattina festiva del 6 gennaio rimane l'appuntamento con Buongiorno Rossini, la consueta rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato, come sempre in diretta alle 7.20. Domani sarà con voi la nostra direttrice Emanuela Rossi. Non è invece un appuntamento su Rossini TV ma è un appuntamento che vi abbiamo anticipato poco fa nel nostro telegiornale l'Epifania sportiva dell'Ital Service Pesaro che al Palafiera ospita il Petrarca Padova domani alle 20.30 per gli appassionati di calcio 5. Davvero un appuntamento da non perdere nel Palasport di Campanara. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale Rossini News. Da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.